Cassa Depositi e Prestiti presenta i nuovi bonus edilizi, cessione del credito d'imposta, anticipo di liquidità e prestito edilizio. In particolare, la cessione del credito d'imposta è dedicata a imprese e enti pubblici per il rapido recupero dei crediti fiscali, l'anticio di liquidità mira ad agevolare le aziende nell'avvio degli interventi e il prestito edilizio supporta gli enti pubblici nel sostenere i progetti di rigenerazione dell'edilizia residenziale pubblica. Con la nuova offerta bonus edilizi, commenta il vice direttore generale e chief business officer di Cassa Depositi e Prestiti Paolo Calcagnini, CDP si conferma al fianco delle imprese italiane operanti nei settori strategici della costruzione e dell'energia, così come degli enti pubblici che vogliono realizzare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico. L'obiettivo è favorire il rilancio dell'Italia in ottica di sostenibilità energetica ed ambientale. Questa nuova linea di prodotti, afferma CDP, permetterà di favorire un più ampio utilizzo delle opportunità offerte dalle recenti novità normative in ambito di ristrutturazione edilizie e di efficientamento energetico.